Musica Musica Mi piacerebbe trovare un locale così quando vado fuori a mangiare le piante del lago, il lago, le viti, qualcosa da ricordare nella tua vita. Musica Il potere in qualche modo ascoltare i rumori del lago, avere come ispirazione quello da dove noi veniamo, cioè dalla natura ma anche quello che la natura offre. Abbiamo questa opportunità che sono i pescatori che ci portano giornalmente il pesce del lago, in base alla materia prima che ci viene offerta dal mercato, quindi dai pescatori, da quello che si trova, organizziamo un piatto. Musica La qualità del pesce del lago di Garda, proprio per le sue profondità come il corregone o l'avarello o la sardina, sono proprio eccellenti secondo me. Musica Gli alimenti a chilometro zero non è che siano solamente buoni, ma danno la possibilità alle aziende che lavorano intorno a noi di poter sopravvivere e di far vivere il territorio in questo modo. Musica L'espressione secondo me maggiore della cultura di un uomo è la cucina stessa perché va ad alimentare il proprio sistema biologico. Musica 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 Musica